Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo del nuovo abbigliamento Summit Series di The North Face e soprattutto cercheremo di rispondere alla domanda ma questo abbigliamento vale veramente i 1450 euro richiesti per acquistarlo? Vediamolo insieme! Iniziamo come al solito dal pantalone, in questo caso abbiamo un pantalone Arshell chiamato Summit Series Stimson Future Light e già qui capiamo la caratteristica principale di questo pantalone ovvero che è realizzato con la membrana proprietaria di The North Face Future Light questa membrana purtroppo non vengono dichiarate le colonne d'acqua e la traspirabilità però a sensazione mia personale vi dico che come colonne d'acqua secondo me è inferiore a quello che potrebbe essere un Gore-Tex Pro che poi lo vediamo sulla giacca però a livello di traspirabilità è superiore me ne sono reso conto perché utilizzandola, facendo delle uscite molto aerobiche sia di alpinismo che magari ciaspolate, scialpinismo eccetera ho sudato veramente poco anche in punti molto caldi in una giornata in cui vi assicuro al sole faceva veramente tanto caldo nella parte superiore ero solamente con il primo strato sotto avevo comunque oltre il primo strato il pantalone ho sudato pochissimo come dicevo questo pantalone è pensato principalmente per lo scialpinismo però può essere facilmente adattato anche a alpinismo già spolate non ha nessun problema, io l'ho provato in tutti e tre gli ambiti la cosa che mi è piaciuta di più poi è la sua costruzione essendo uno pantalone pensato principalmente per lo scialpinismo ha una costruzione molto larga soprattutto nella parte inferiore tende ad allargarsi molto per ospitare uno scarpone da scialpinismo ma questa feature è veramente ottima soprattutto anche se dovessimo fare alpinismo con degli scarponi molto grossi magari scarponi da alta quota lì veramente potremmo utilizzarlo molto facilmente parlando di caratteristiche innanzitutto troviamo delle bretelle nella parte superiore che ci permettono di poterlo tenere su senza il problema che ci possa cascare troviamo una vita abbastanza alta per intenderci a me arriva all'altezza dell'ombelico la parte di chiusura della vita è fatta da un semplice cordino da andare a tirare e si va a chiudere tutta la parte attorno alla nostra vita un altro aspetto molto interessante è che possiamo andare ad aprire due cerniere laterali diciamo fino a tre quarti non si aprono completamente le cerniere sono IKK e funzionano abbastanza bene queste cerniere una volta aperte ci permettono di poter fare uscire tutta l'aria calda e così aumentarne la traspirabilità a livello di tasche ne troviamo tre tutte nella parte anteriore una sulla gamba di sinistra due sulla gamba di destra quelle più basse sono veramente ampie io ci ho messo dentro anche dei guanti belli pesanti ci stanno dentro senza nessun problema e poi ne troviamo una più piccolina nella parte superiore di destra dove magari possiamo andare a riporre un telefono una cosa invece molto interessante che troviamo ed è naturale in questo caso nella parte bassa troviamo la ghetta interna che possiamo anche con un gancetto andare ad attaccare agli scarponi così da non far entrare la neve la parte esterna poi ha un bottone per andare a richiudere in base alla grandezza dello scarpone e infine sulla parte interna della pantaloni troviamo anche degli inserti un pochino più robusti per evitare di distruggere il pantalone se dovessimo ramponarci da soli infine per quanto riguarda questi Stimson come dicevo membrane feature light hanno tutte le parti di cucitura termo saldate appunto per poter essere un Arshell bello strong a tre strati devo dire che io mi ci sono trovato veramente molto bene soprattutto davvero per quell'attività in cui bisogna stare per tante tante ore con i piedi nella neve ma anche con la neve magari che ci arriva anche a metà gamba o al ginocchio devo dire che veramente sono super ottimi passiamo ora al secondo strato in questo caso abbiamo il The North Face Summit Serious Future Fleece è un micropile che mi ha veramente stupito questo penso sia il pezzo forte della collezione per intenderci parliamo di un micropile estremamente caldo e traspirante io ho avuto modo di utilizzarlo come temperatura dai più 10 ai meno 10 e vi assicuro che in entrambi i casi l'ho tenuto su ai più 10 senza sudare perché la traspirabilità è veramente ottima ai meno 10 mi ha tenuto caldo senza avere problemi di dover indossare un terzo strato naturalmente poi queste temperature dipendono tanto dal primo strato che utilizzate da quanto siete calorosi e freddolosi però lui come range di temperatura è veramente ampio la parte interna vera e propria che ha la funzione di tenerci al caldo e di traspirabilità è fatta con un micropile di sezione ottagonale che è veramente ottimo al tatto si sente subito che è bello caldo e se invece andiamo a tirare un pochino il tessuto andiamo a vedere che è veramente traspirante la parte più interessante poi è anche il suo peso e le sue dimensioni è leggerissimo addosso è come non sentirlo è veramente super leggero e da richiuso diventa piccolissimo molto molto piccolo lo si mette nello zaino e occupa pochissimo spazio a livello di feature troviamo una zip anteriore che scorre a tutta lunghezza e funziona abbastanza bene nella parte dei polsini abbiamo l'elastico da passare sotto il pollice così da tenere la manica bella dritta senza il problema che si diri su il cappuccio fatto molto bene anche lui in micropile ha poi i bordini anche elastici così da adattarsi bene alle forme della nostra testa un aspetto molto interessante poi che non abbiamo cuciture sulla parte delle spalle questo è pensato soprattutto per quando portiamo allo zaino per evitare che magari muovendosi un po' lo zaino vada la cucitura a strusciarci contro la pelle quindi devo dire che da questo punto di vista evita completamente le abrasioni anche a livello di materiale devo dire che è veramente ottimo io l'ho utilizzato per una quindicina di uscite e mi ci sono trovato veramente bene sia a livello di durabilità perché comunque anche strusciando contro qualche roccia strusciando contro qualche albero non ho avuto problemi sia a livello poi anche di lavarlo nel senso io l'ho lavato già anche 15 volte non ha perso nessun pallino non ci sono stati punti in cui ha iniziato a sfibrarsi eccetera è ancora ottimo come nuovo da punto di vista poi della protezione dagli agenti atmosferici non è idrorepellente e non protegge nemmeno dal vento l'idrorepellenza manca proprio per natura del materiale la protezione contro il vento l'ho sentita veramente veramente minima vi assicuro che nel momento in cui arriva giusto una piccola folatina di vento la sentite tutta tutta però non gliene farei neanche tanto una colpa perché per il vento naturalmente c'è il terzo strato la giacca Arshell che adesso andiamo a vedere ed eccola qua la giacca la Pumori Jacket GTX come vedete qua siamo passati al Gore-Tex in questo caso un Gore-Tex Pro tre strati che naturalmente conosciamo già con tutti quelli che sono i dati sia di impermeabilità sia di traspirabilità per quanto riguarda l'impermeabilità non abbiamo nessun problema perché veramente da questo punto di vista le colonne d'acqua dichiarate sono veramente alte mi ha lasciato un pochino insoddisfatto la traspirabilità ma proprio qua parliamo di membrana Gore-Tex magari poi la vediamo anche in un video a parte dal canto suo per aumentare la traspirabilità questa giacca ha delle zip sotto le ascelle per far sì che si possa andare ad aumentare la ventilazione e in più le tasche anteriori che troviamo dove riporre degli oggetti nella parte interna hanno anche una piccola retina che anche qua aumenta un pochino la traspirabilità queste tasche poi sono veramente interessanti perché oltre poter mettere all'interno due oggetti nella parte interna abbiamo anche delle piccole taschine a rete in cui poter riporre per esempio un telefono e tenerlo a contatto col corpo per evitare che si congeli un'altra feature molto interessante di questa giacca è il cappuccio il cappuccio perché è veramente molto grosso lo si può utilizzare facilmente anche con il casco è naturalmente regolabile nella parte posteriore per farlo aderire bene alla testa troviamo anche la visera nella parte anteriore ed è regolabile anche sulla parte diciamo proprio del collo con dei cordini da andare a tirare per farlo aderire per bene devo dire cappuccio fatto estremamente bene nella parte inferiore poi per poter regolare la giacca troviamo un singolo elastico da andare a tirare diciamo che secondo me due elastici sono sempre meglio però anche uno ci può stare la cosa che non mi è piaciuta di questa giacca è la cerniera principale è una cerniera IKK e vi assicuro si impunta veramente tanto quando andiamo a tirarla su diciamo che per tirarla su dobbiamo un pochino litigare con la cerniera davvero questo mi ha fatto un po' storcere il naso perché su una giacca di questo prezzo mi sarebbe aspettato una cerniera migliore tutte le cerniere anche in questo caso sono IKK sia la principale sia quelle sotto la scelle sia tutte quelle delle tasche e infine per evitare l'ingresso di aria fredda troviamo naturalmente anche la parte di polsino da andare a chiudere così proprio da farla aderire perfettamente devo dire che come giacca vabbè a me la colorazione piace veramente tanto ma anche come prestazioni è una classica giacca d'alpinismo pensata veramente per fare sia dalle cascate di ghiaccio sia all'alpinismo estremamente tecnico è una giacca con delle funzioni ottime è una giacca con tutte le cuciture termosaldate proprio per garantire alla massima impermeabilità che dire possiamo vederlo come un classico Arshell tre strati in Gore-Tex Pro che sul mercato ne esistono abbastanza ma arriviamo dunque a parlare di prezzi che sono sicuro che è la parte che più vi interessa innanzitutto vediamo quanto vengono venduti 500 euro il pantalone 150 secondo strato 800 la giacca pantalona 500 euro secondo me ci può stare ci può stare perché comunque parliamo di un pantalone Arshell gli pantaloni Arshell tendenzialmente si trova sui 450 500 euro quindi ci sta soprattutto mi piace molto il fatto che essendo in Futurelight è più traspirante di quello che possa essere un materiale magari in Gore-Tex almeno come dicevo non vengono dichiarate le traspirabilità del Futurelight però a sensazione vi assicuro che secondo me il Futurelight è più traspirante il secondo strato in Futurefliess secondo me è veramente il pezzo forte della collezione 150 euro sito di North Face online lo si trova già sui 120 è veramente un secondo strato molto interessante se state cercando un secondo strato un po' tutto fare con quale farci anche dell'alpinismo molto tecnico secondo me è veramente un secondo strato killer sul mercato veramente fatto molto bene quella che invece costa tanto e secondo me il prezzo è più alto rispetto a quello che sono le concorrenti sul mercato è la giacca una giacca così diciamo che tendenzialmente sul mercato la troviamo anche lei sui 500 600 euro e questi 800 euro secondo me sono anche un po' alti per quello che è il prezzo poi di mercato vedremo se nei prossimi mesi il prezzo almeno della giacca tenderà un pochino a scendere però secondo me in questo momento che sto facendo la recensione questa giacca non vale gli 800 euro richiesti se dovesse trovarla sui 550 600 sarebbe già decisamente meglio e detto ciao ragazzi una speranza sia stato esauramente esaustivo anche per questa recensione vi ringrazio la guardata e noi ci vediamo alla prossima ciao ciao